L'abbigliamento della collezione Oggi Ultra Veste Aderente. Se preferisci capi più larghi consigliamo di ordinare una taglia superiore della tua solita o consultare guida alle taglie Oggi. Lunghezza dell'abito, taglia M 62,5 cm. Lunghezza dell'abito, taglia M 63,5 cm. Lunghezza dell'abito, taglia M 63,5 cm. Lunghezza dell'abito, taglia M 63,5 cm. Grazie a tutti